eccoci qua buongiorno a tutti saluto daniele che vedo si è collegato saluto anche mia mamma che vedo si è collegata immediatamente e faccio entrare immediatamente l'ospite di oggi lo scoprirete subito eccola qua aveva strappato il pass a dicembre per le olimpiadi di tokyo ma le olimpiadi di tokyo eccoti ciao margherita ciao come stai bene bene cioè potrebbe star meglio innanzitutto dove sei in questo momento io in questo momento sono nella mia camera all'acquaniene che io vivo nella foresteria dell'acquaniene sono rinchiusa qua dentro da 17 giorni bene molto bene allora ti presento per chi non la conoscesse margherita panziera nuotatrice nuotatrice soprattutto a dorso e poi ci spiegherai anche perché hai vinto gli europei sui 200 metri d'orso hai nuoti anche a stile libero un po come fa la pellegrini però al contrario le grini fa la stile libero e tu invece fai fai più dorso dicevo a chi ci sta seguendo saluto tutte le persone che appunto ci stanno seguendo che avevi strappato il pass per l'olimpiadi a dicembre a riccione giusto sì sì giusto poi avevi vinto gli europei in vasca porta anche a glasgo tanto a glasgo ogni volta che metti piede a glasgo giusto sì sì mi porta bene sarà l'aria non lo so però mi porta bene però perché stiamo facendo questa diretta con la luis perché tu sei anche una studentessa giusto io sì 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 sto facendo la magistrale in marketing alla luis quindi questo stop ti potrebbe anche aiutare perché io so che avevo avevo letto un'intervista un po di tempo fa che ti ha ridato un grande obiettivo oltre alle limpiadi laurea nel 2021 ora con questo non ce la faccio però chi lo sa magari questo stop cambia un po in chi piani in quello laurea in marketing ripetiamolo sì esatto diciamo che mi ha fatto proprio bene questo stop perché mi sto allenando poco niente quindi riesco a studiare molto molto di più di prima anche perché è difficile magari dopo che fai 12 13 chilometri al giorno anche se c'hai un'oretta di tempo è veramente difficile mettersi là a studiare a concentrarsi e invece così mi sta aiutando parecchio quindi mi porto avanti mi spieghi perché ti piace così tanto notare a dorso cioè questa cosa di andare all'indietro come cioè com'è nata beh allora diciamo che sono stata sempre fino a piccola sono stata dorsista quando ero piccola piccola mi ricordo che mi piaceva il dorso perché potevo respirare quando volevo a stile libero non riuscivo bene a capire la respirazione così invece al dorso ero libera e dopo appunto sono stata fortunata tra virgolette perché sono riuscita ad imparare molto bene la tecnica e quindi ad avere una nuotata molto efficiente che mi permette di dispendio minore di energie e dopo da là ho continuato tagliamo subito la intanto salutiamo il direttore generale della luis giovanni lo storto che ci ha anche salutato nei commenti ricambiamo ovviamente il saluto di lo storto che è uno delle persone che ha deciso anche il fatto che ci fossero degli studenti atleti io forse non lo sai questo margherita ma una volta ero il playmaker della squadra di pallacanestro vedi quindi anch'io ho approfittato ho fatto la carriera giornalistica con quello comparato alla luis però ho avuto anche la borsa di studio quindi saluto il direttore generale lo storto saluto tutte quelle che che ci stanno seguendo e ti volevo subito chiedere hanno fatto un sondaggio negli stati uniti su fatto se gli atleti erano contenti o meno di questo rinvio e il 93 per cento degli atleti americani ha detto meglio che se siano rinviati le olimpiadi tu che sei una delle nostre atlete di punta in italia sei contenta di questa decisione del cio che ne pensi sì 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 cioè secondo me è stata la soluzione migliore prima di tutto per quanto riguarda la nostra salute e comunque non non mi sarei sentita a mio agio stare in un villaggio in cui ci sono centinaia sono migliaia di atleti provenienti da tutte le parti del mondo era veramente un rischio per la nostra salute e in più anche perché comunque con questa quarantena abbiamo interrotto il nostro ciclo di allenamenti e io poi ho avuto la fortuna di potermi allenare ogni tanto comunque sempre in sicurezza all'acqua cetosa quindi un impianto del coni però tanti altri ragazzi sia in italia ma anche nel mondo non potevano allenarsi quindi ci sarebbe stata una una disparità proprio a livello di preparazione che avrebbe minato al fair play che comunque è alla base dell'olimpiade quindi rinviarla sia al 2021 ci permette di sì ci dà la serenità di fare una stagione completa fatta bene come avremmo dovuto fare quest'anno c'è chi ti sta punzecchiando nei commenti me lo faceva notare valerio giordano un ragazzo che cura i social sport luis e c'è marco di costanzo che mi sa che conosce canottiere bronzer di genero nel 2016 che ti sta punzecchiando nei commenti e dice sì ma tanto va veloce solo a dorso inutile che dice che fa anche lo stile va veloce solo a dorso come i gamberi senti ma so che tu con l'olimpiadi comunque è un rapporto molto particolare no ecco sta ridendo marco ti saluta ma con l'olimpiadi un rapporto particolare anche da studenti anche da studentessa perché la tua tesi prima di arrivare alla luis era proprio sulle olimpiadi giusto sì esatto ho fatto la tesi di triennale sull'impatto positivo dei giochi olimpici nelle varie città quindi ho messo a confronto sia l'olimpiade di londra che è un'olimpiade estiva che è quella di torino è brava anche a rana dice giulia intanto eh tanto no quello no quello no è vero il mio allenatore salutiamo il tuo allenatore bel fiore e appunto cioè la conclusione della mia tesi è che un'olimpiade è come un investimento quindi un investimento se viene gestito bene può essere può essere reddittizio avere un impatto positivo non solo dal punto di vista economico quindi avere un ritorno economico ma soprattutto nel lungo termine cioè per esempio londra ha completamente rivalutato un quartiere che ci avrebbe messo dieci anni di più per arrivare a quel livello là però appunto se viene gestita male ovviamente può essere un fallimento come l'olimpiade di Atene in cui hanno costruito degli impianti per 9 miliardi di euro e dopo sono stati abbandonati è stata appunto una perdita per la città qualcuno ti chiede perché hai preso l'olimpiade di Torino anche come esempio Suomi Piero ci stava chiedendo questo Allora perché mi è stato suggerito dal mio relatore e quindi appunto volevo mettere a confronto anche i costi, gli investimenti tra un'olimpiade estiva e un'olimpiade invernale che comunque sono diversi Per quanto riguarda l'olimpiade di Torino ci sono pensieri discordanti diciamo Vedo, anche nei commenti ci sono già certo Per quanto riguarda l'efficacia però diciamo che non è stata terribile come si pensa e soprattutto è difficile riutilizzare gli impianti di un'olimpiade invernale perché appunto per esempio un impianto da Bob lo puoi usare solo per il Bob Quando si fa, non è che durante il giorno uno va con lo slittino Certo, esattamente Suomi dice abbiamo fatto un bufo di 4 milioni di euro effettivamente ci sono stati dei problemi come ci sono sempre Cioè quello che voglio dire è che l'impatto positivo di un'olimpiade non è solamente dal punto di vista economico di per sé ma comunque ha dato una visibilità alla città di Torino e a tutto appunto il contesto che comunque ha fatto bene Certo Poi ovviamente ognuno ha la sua opinione Ognuno ha la sua opinione Fortunatamente la libertà di opinione non avendo in questo momento la libertà di movimento però ovvi motivi ha la libertà di opinione almeno quella ce la teniamo chiaramente Senti, ma è vero che tu volevi fare l'ingegnera o la dottoressa? Sì, è vero Allora diciamo quando ero piccola cioè fino alla terza superiore io volevo andare a fare medicina Poi mi sono messa a studiare biologia e chimica e ci ho ripetito E hai detto ciao No, comunque al liceo ero molto brava cioè me la cavavo insomma in matematica, fisica comunque mio papà è ingegnere quindi volevo un po' continuare su quella strada A dir la verità ero indecisa tra ingegneria energetica e ingegneria gestionale Poi sono andata a fare economia che comunque c'entra Meglio, per certi razzi Più semplice o no? Più che altro è che dopo il liceo mi sono trasferita a Roma ho iniziato a fare i doppi allenamenti comunque a fare una vita da atleta professionista quindi non avrei potuto frequentare ingegneria era molto difficile mentre economia sono riuscita a studiarla da non frequentante comunque da sola Senti Margherita ma fare lo studente a ottimo livello come la LUIS lo sa benissimo direttore generale che vuole che siano tutti grandi studenti la LUIS non lasciamo mai indietro nessuno ma anche l'atleta a livello olimpico per farlo bisogna essere dei supereroi so che tu con i supereroi poi hai una passione particolare anche per la Marvel, giusto? Sì, sì, sono un po' nerd E di Giulia dice che potresti fare recensioni dei cartoni di Disney Ma parliamo della precedessa Mula Lei mi conosce Brava Giulia Mi conosce da quando ho 7 anni quindi sta bene No, comunque no, supereroe no sicuramente ci vuole determinazione, impegno che sono mancate anche a me tante volte soprattutto durante il liceo è stato un periodo nero perché comunque far dalle 8 alle 13 poi 3 ore al pomeriggio e altre 3 ore di studio arrivavo a casa che mi mettevo a piangere disperata però comunque nella vita bisogna far fatica prima o dopo Senti, io ti voglio sentire una canzone perché so che hai anche una passione per il canto Sì, purtroppo per i miei vicini di canto La senti? Sì La riconosci? Sì, qui in Don't Stop Me Now Ecco Che valore ha la lasciamo un po' di sottofondo intanto Che valore ha questa canzone per te? Don't Stop Me Now Se vuoi cantarla, cantala No, no, per carità No, comunque sicuramente i Queen sono cioè un emblema della musica hanno veramente fatto la storia Poi Don't Stop Me Now Metti le Gigi D'Alessio dice sempre Su Gigi D'Alessio come vai? No, male, male Malissimo, malissimo E comunque appunto Don't Stop Me Now è una ricerca ha detto che è la canzone più positiva mai creata e quindi è una canzone che mi dà la carica Anche se ora Cio è Stop Me Now è Stop Me Now Sì, sì, sì Sì, ormai Senti, ma visto che comunque è anche la canzone di notte prima degli esami la tua notte prima di un esame o prima di una gara com'è? Cioè, tu dormi? Io per esempio quando facevo gli esami la notte prima di base non dormivo un po' perché dovevo recuperare qualcosa diciamolo troppo però tu dormi? Allora, diciamo che l'ansia che ho prima delle gare è talmente alta che prima di un esame mi sembra di andare a fare una passeggiata quindi sicuramente è diverso poi mi sale l'ansia durante il giorno cioè tipo due ore prima dell'esame oddio no non so niente non so niente non so niente poi invece io sono una di quelle classiche che dice non sai niente dopo l'ho fatta quindi scusatemi non lo faccio a bozza però no la notte prima di una gara è molto più difficile perché devi riuscire a a non ripeterti la gara nella mente venti volte perché altrimenti ti sveglia la mattina che sei già stanca qual è il tuo record ecco a proposito ma prima di una gara voi siete tutte insieme per esempio avete la camera tutte insieme ma se c'è una persona che per esempio non ha la gara il giorno dopo cioè tu che fai dici spengi la luce a quest'ora perché è tardi no no certo c'è quel fatto che siamo cioè siamo in questo ambiente da tempo comunque siamo tutte persone mature bene o male perché siamo tra i 20 e i 30 anni sì c'è anche rispetto per l'altra persona la mia compagna a distanza sa benissimo che se il giorno dopo ho la gara io dico guarda vado a dormire lei spegne tutto e non fa rumore come io faccio lo stesso con lei ma è proprio una questione di rispetto base per per le persone ti mando un grande abbraccio ti mando un grande abbraccio un grande abbraccio Paolo Del Bene e invece invece che è responsabile chiaramente dello sport della Lewis e ci continuano a chiedere quali sono i tuoi record dici un po' i tuoi record allora facciamo una sfizza di rumori tanto per se non so se mi ricordo vediamo allora cominciamo con 200 d'orso qual è il tuo record? il 200 d'orso è 2,5 e 76 credo in vasca lunga e 2,1 e 45 o qualcosa in corta fado male con i centesimi io ricordiamo a chi non sa bene queste cose vasca lunga sono 50 metri 50 metri da 25 quindi esatto si va più veloce 100 metri stile chiedono allora 100 metri stile non li faccio in gara singola da anni però da lanciata quindi in staffetta non in prima posizione dove appunto non devi partire al via ma puoi partire cioè i tuoi piedi devono staccare nel momento in cui l'altro tocca la la piastra la piastra o 53 e 80 53 e 80 benissimo senti ma un'altra cosa che ti volevo chiedere tu hai anche tanti tatuaggi giusto un po' tre sono tanti hai anche il tatuaggio delle olimpiadi giusto i cinque cerchi ecco abbiamo parlato di tanti successi ancora ne parleremo ma le olimpiadi le ultime che avevi fatto a Rio sono state più una gioia o più una delusione perché qualche cosa è mancato lì no sono stata una delusione sicuramente più che altro è che io ho iniziato a fare gli allenamenti e la vita da atleta professionista tardi rispetto alle altre mie compagne quindi avevo appunto 19 anni dopo due anni sono andata all'olimpiade con che non ero preparata né a livello fisico né a livello mentale perché comunque anche tutte le nazionali giovanili io non le ho mai fatte cioè mi sono proprio buttata nel 2015 prima nazionale 2016 olimpiade e quindi sono arrivata che mentalmente ero ancora fragile e sicuramente il peso di un'olimpiade si è fatto sentire e dopo anche a livello fisico non conoscevo ancora bene quello di cui avevo bisogno dopo un po' capisci le sensazioni che hai in acqua dici ok mi sento così quindi dovrei fare un po' di più dovrei fare un po' di meno cioè hai più sensibilità all'epoca ero ancora ragazzina quindi comunque non non ho fatto quello che che avrei voluto però sinceramente è andata bene così nel senso che poi gli anni è successivi a lavorare diciamo sì sì esatto esatto senti una cosa ma ci chiedono che cosa cambia nella preparazione spostando tutto di un anno cioè spostare innanzitutto il pass vale diciamo giusto no ancora no perché oggi leggero che forse sì non lo so io non so ancora niente ecco non si sa speriamo non si sa però non lo so io spero di sì perché almeno c'è un pensiero di meno ecco no comunque diciamo che si dovrà fare tutta quanta la stagione come dovevo fare questa quindi con i vari collegiali in giro so che li dovrò rifare sì e niente fare seguire quello che mi dice l'allenatore soprattutto sì e basta comunque io sono tranquilla cioè ho preferito la scelta di spostarle di un anno piuttosto che di spostarle a ottobre perché comunque non avremmo avuto una continuità nella preparazione nel lavoro e comunque l'olimpiade è la gara più importante della vita bisogna arrivare con una sicurezza di aver fatto tutto quanto il possibile certo ci chiedono se il progetto 4x200 è ancora in piedi dipende le altre quanto fanno non dipende da te esatto no più che altro Federica sta andando una bomba quindi lei c'è di sicuro e il problema di una 4x2 per me è che ho appunto mi devo concentrare sulle mie gare individuali che sono o il giorno prima o il giorno dopo quindi è un po' difficile mettere insieme le due cose spero che comunque quest'anno le le due centiste ci sorprendano con qualche prestazione quindi che questa 4x2 ritorni alle vecchie glorie del 2015 prendendo spunto la domanda che ci fa Pietro Scognamiglio che saluto un collega che ti segue sempre ovunque Margherita ti vedi proiettata ad altri livelli fino a più di 30 anni perché tu sei ancora giovanissima però lui fa l'esempio di Federica Pellegrini che è la tua uguale e contraria perché prima fa stile libero di più fa ogni tanto dorso tu fai più dorso e stile libero poi dopo Giuseppe Avidabile ho letto quello che stai scrivendo e poi chiediamo anche questo ti vedi nuotare per tantissimo tempo? in verità non lo so perché sicuramente voglio arrivare alle Olimpiadi di Parigi che è 2024 2025 si sta quindi però non so se riuscirò a proseguire oltre sia per quanto riguarda una questione lavorativa che comunque io vorrei iniziare a lavorare a far carriera e quindi prima inizio meglio è poi appunto dipenderà anche se magari ho un fidanzato voglio mettere su famiglia eccetera ora ce l'hai il fidanzato? no ora no ora si è lasciata libera e disponibile ti sei lasciata con il tuo collega con Simone che notava con te sì un anno fa e chi ti fa compagnia adesso? non fa compagnia nessuno io sapevo che ti faceva una compagnia Netflix per esempio oltre i libri perché stai studiando i libri Netflix la mia compagnia di stanza che in Tesa San Paolo comunque aiuta a contribuire diciamo ma è sempre diventata è sempre rispettata intanto Giuseppe Avirapide dice quindi Netflix che cosa stai guardando? consigliamo qualcosa a chi ci segue? oddio io solamente serie tv guardo quindi le ho viste praticamente tutte l'ultima è stata Elite e poi vabbè un'altra che mi è piaciuta Peaky Blinders anche The Witcher che ho tutte quante senti ma io invece sto seguendo Obland che me l'ero persa sei stagioni sono un bel mattone però insomma lo sto recuperando terrorismo cose così spie molto interessante Giuseppe Avitabile chiedeva se ti ricordi un cartellone a Napoli che è stato fatto per te se me lo vuoi descrivere intanto si meraviglia ma come sei single che cosa c'era scritto su questo cartellone a Napoli durante l'international swim allora c'era scritto c'era un cartellone che ho scritto se stasera con me uscirai presto una medaglia al collo porterai una roba del genere è stato profetto con il numero di telefono dietro pure eccezionale chiediamo a Giuseppe Avitabile poi com'è andata eventualmente anche di dirci questo insomma no alla fine gli ho dato buca mi dispiace e la medaglia? non ero nella condizione non potevi non potevi la medaglia è arrivata allo stesso a Tokyo 2021 Giuseppe Avitabile sarà a bordo piscina vediamo se prenderai qualche merito eventualmente senti prima citavi citavi anche la fisica che ti aveva spaventato c'è un libro di Gregorio Paltrinieri che tu conosci bene sicuramente che ci hai fatto tanti cose collegiali anche così intanto vedo che Giuseppe Avitabile manda anche il libro insomma sì sì Roma ce l'ho ancora il cartellone ce l'ho sotto il letto te lo giuro certo poi ti chiederemo anche come fai a seguire la dieta senza sgati che tante persone ce le stanno chiedendo ma il peso dell'acqua ma il peso dell'acqua che è il suo libro ma tu lo senti il peso dell'acqua cioè so che in passato si è detto spesso di tanti nuotatori tante nuotatrici che avevano un po' anche l'ansia di tuffarsi dell'ansia da gare il peso dell'acqua che cos'è? Eh beh allora che comunque il fatto che noi sacrifichiamo tutto poi alla fine non sono sacrifici perché è uno stile di vita questo però comunque diamo tanto e spesso non non c'è ritribuito come vorremmo non non abbiamo i risultati sperati a volte appunto è difficile trovare la motivazione per ributtarsi in acqua dare il 100% però appunto bisogna bisogna anche convivere con con questo ma tu le ansie come le hai superate? con l'esperienza comunque cioè sono cresciuta sia dal punto di vista di atleta sia dal punto di vista di proprio persona comunque andare da fuori andare a vivere fuori di casa e iniziare ad arrangiarmi da sola mi ha aiutato tanto e dopo appunto più gare facevo più l'ansia diminuiva e e poi quando le gare hanno iniziato ad andarmi bene e allora sono stata ancora tranquilla perché sai se è un periodo in cui va male ogni gara in cui ti butti hai l'ansia che possa andare male mentre se se sei tranquilla mentalmente che comunque hai fatto il lavoro che sta andando tutto bene ti senti bene non ci pensi neanche alla fine sai che poi c'è anche l'UIS Sport Lab non so se lo conosci che è in questo progetto che mira a migliorare le prestazioni a 360 gradi degli atleti giusto so che ti hanno anche coinvolto anche in questa insomma c'è questa possibilità eventualmente di migliorarle attraverso anche psicologi insomma attraverso un po' tutto una prestazione a 360 gradi perché poi sei atleti sempre ma sei anche sempre studenti di se stessi credo più o meno questo sicuramente non me l'ero scritta senti ma ora ci dicono tanti che cosa fai per mangiare bene sempre io so che tu sei una grande pastara poi parliamo della tua passione per la carbonara che è ancora qualcosa diciamolo che sei venuta a Roma per questo prevalentemente è vero no lascia stare cioè allora il primo anno che sono venuta qua a Roma sono arrivata a settembre che pesavo 60 kg a gennaio ne pesavo 68 benissimo ero proprio data la patta a gioia benissimo no comunque sì ho una grande passione per il cibo e come fai però a non sgarrare per gli allenamenti allora diciamo che il mio segreto è concedermi uno sgarro tutti i giorni piccolo quindi magari se ho voglia di mangiarmi un biscotto o me faccio magari uno yogurt così non succede niente poi non arrivo mai al punto di in cui magari faccio dieta per tutta la settimana e dopo il sabato mi sfondo perché non ha senso quindi magari tutti i giorni mi mangio un dolcino certo e alla fine con 12-13 km pure se ti mangi un biscotto o due biscotti non cambia niente certo quindi io l'affronto così poi ognuno lo affronta in maniera diversa sicuramente c'è chi ti conosce che scrive sushi con tre punti interrogativi perché sappiamo che il sushi è la tua grande passione infatti c'è brutto da dire però tra la pizza e il sushi io preferisco il sushi mi dispiace incredibile no ma infatti sappiamo che ti dispiace rimandare a Tokyo soprattutto per quello perché perché il Giappone essendo la patria del sushi chiaramente è questo chiaramente ma qual è il segreto per andare forte a dorso cioè come si fa perché io per esempio io in acqua sono un disastro cioè sono tipo arranco in qualche modo come si fa cioè esattamente e come si fa anche a non avere l'acqua nelle orecchie per esempio è una cosa che mi sono sempre chiesto quello non lo so cioè non lo so si vede che mi allena talmente tanto da tanti anni che ormai non fa più non fa effetto quello no esatto e niente per allenarsi a dorso bisogna nuotare tanto bisogna notare chiaramente senti ma questi ritiri collegiali che fate no per esempio come sono cioè per esempio so che tu a gennaio eri andata con Paltrinieri col professor Morini pure negli Stati Uniti per fare questi ritiri collegiali cosa si fa nei ritiri collegiali quando sei intanzitutto con chi sei in camera quando fai questi ritiri beh dipende allora per esempio questa in America qui a gennaio ero in camera con Simona Quadarella ma anche perché eravamo le uniche due ragazze quindi per forza cioè no poi dipende comunque vado con diversi gruppi per esempio a ottobre ero andata con il gruppo di Federica e ero in camera con un'altra dorsista Carlotta Zoccova quindi uno sa che tanto io comunque abitando in foresteria sono abituata ad avere una coinquilibna ad avere diciamo poca privacy spazi costretti quindi non mi pesa neanche più di tanto quello si sa che comunque dura per due tre settimane e uno cerca di trovare la confidenza ma studiavi anche? allora dipende più che altro ci sono certe volte in cui abbiamo degli orari che favoriscono lo studio e invece altre volte è un po' più difficile perché magari io ho difficoltà a studiare tra un allenamento e l'altro perché comunque mi devo riposare e quindi magari dopo non hai tempo perché devi andare subito a cena dopo cena sei stanca quindi magari è un po' più difficile e infatti cerco di studiare quando ne ho l'occasione tipo sabato la domenica così cerco allora stavo leggendo oggi che Federica Pellegrini tra le cose che ha cominciato innanzitutto com'è Federica Pellegrini fuori? quella non conosciuta è una persona è una persona normalissima è super gentile è molto molto professionale nel suo lavoro comunque è una cosa che ammiro tanto perché magari ci sono certi che non cioè si dimenticano di essere atleti al di fuori della vasca invece purtroppo noi non ce lo possiamo dimenticare lei è sempre molto professionale e dopo si è una persona normalissima come sono tutti quanti poi siete qua siete co-regionali insomma che ha parlato un po' lo stesso dialetto magari dialetto romano non l'hai preso non l'hai preso neanche la cadenza in verità le mie amiche lo so dicono così dicono che c'ho qualche cadenza in verità sono una via di mezzo senti ma Federica ho letto che ha detto in questi giorni sto facendo cose che non avevo mai fatto nella mia vita tipo stirare per esempio la prima volta cioè tu che cosa hai scoperto invece in questo periodo di quarantena in cui siamo tutti obbligati a fare cose che prima facevamo meno o non facevamo ma in verità ho scoperto che allora io prima della quarantena mi ritenevo una molto come si cioè introversa comunque non mi piaceva andare fuori così invece mi sono accorta che mi piaceva andare fuori perché sapevo che tu dicevi sempre io sono una dal divano in televisione esatto esatto e invece mi sono accorta che anche io ho bisogno di uscire di andare fuori a mangiare cioè anche il semplice fatto di andare a cena fuori uno può cioè magari è un niente però comunque aiuta a staccare soprattutto noi che abitiamo in una foresteria quindi siamo sempre costantemente tutti insieme non c'hai privacy è comunque difficile il fatto di poter staccare anche vado a farmi un giro in centro al centro commerciale o vado al cinema anche se non vai a far serata comunque sono cose che ti aiutano a staccare anche si può fare anche pomeriggi ogni tanto non solo le serate sì esatto sei più una diurna secondo me sì sì infatti anche secondo me quindi diciamo se fate una serata a me ci vuole un mese per recuperare quindi a eventuali quarteggiatori invitatela a pranzo invitatela a pranzo sì al massimo a cena però no dopo cena perché mi piacciono non mi piace esatto questo sicuramente addormi tanto? ma in verità non tantissimo cioè però le mie otto ore al giorno me le devo fare già se iniziano a essere sette inizio a diventare nervosa è un casino senti ma so che Roma ti ha anche dato qualcosa in più su dei tuoi interessi perché una volta non ti interessavano tante cose so che ora per esempio sei una modaiola o meglio sei una che segue molto anche le griff o che ti piace molto anche vestirti bene insomma quando non ti metti la cuffia e il costume sono in tuta io mi sono messo la camicia per la prima volta dopo come ci sono che erano in pigiama o maglioncina ho detto basta diamoci un tono insomma comunque ho passato io sono qua a Roma da cinque anni e mezzo e di cui tre o quattro anni li ho passati in camera con un'altra ragazza che aveva appunto questa passione per la moda e appunto mi ha influenzato ho iniziato anch'io a seguire così e quindi adesso sono un po' appassionata è collegata questa ragazza che tu sappia? no non lo so non penso stia studiando sta studiando bene che cosa sta studiando? chi è se la vogliamo salutare? Sofia se ci sei ciao salutiamo Sofia tu sarai la sua pure che sta studiando giusto? sì sì lei si è laureata ottobre in oddio adesso mi ammatta se dico male Francesca intervieni eventualmente sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti tipo quello che fanno i NAS insomma e invece adesso è a Udine anche lei che sta studiando tecnologie alimentari non è venuta da Luis magari a fare un master io gliel'avevo detto vieni a Roma che così ci troviamo un appartamento insieme poi mia sorella è bravissima cioè fa tutte le faccende domestiche è bravissima a fare i dolci biscotti poi ho detto Franci vieni con me a Roma così andiamo a vivere insieme no? invece lei no no vuole star vicino a casa e quindi ascia il bovudine ci chiedono per esempio Jan Semp se fai esercizi particolari a corpo libero per tenerti allenata adesso quali? perché devi prendere spunto ora non ce le potrai rifare esattamente adesso no poi sì non sono neanche ti sei allenata stamani? no stamattina no perché c'è l'acqua a 25 gradi e quindi non ci possiamo più allenare quando vi riallenare? non si sa non si sa è un punto di domanda comunque sì di solito facciamo degli esercizi a corpo libero per esempio esercizi per le spalle per comunque la prevenzione poi gli addominali i dorsali i piegamenti oppure il mio preparatore magari mi manda dei circuiti di cardio quindi proprio per studiare brava studia qual è il prossimo esame in cantiere? visto che tocca sono spostato gli esami non vengono spostati come studi a proposito? cioè didattica a distanza vai al campus come fai? prendo i libri e li leggo per studio giustamente basta così no comunque adesso sto studiando comunicazioni di marketing e linguaggi dei nuovi media a che punto siamo? a metà sottolinea come fai? qual è la margherita panziaria? qual è il metodo che usa per studiare? allora io leggo sottolineando le cose più importanti poi riscrivo quello che ho sottolineato mi stampo tutto quanto quello che ho scritto evidenzio con colori diversi diversi concetti e dopo faccio altri riassunti dei riassunti le mappe concettuali così sono tipo una manuense devo mettermi là a scrivere a riscrivere ma non fai la ripetizione allo specchio la ripetizione allo specchio la fai o no? no in verità no però comunque se so che l'esame è orale mi devo mettere a ripetere a voce alta per forza sei una secchiona diciamolo chiaramente lo ammetto sei chiaramente una secchiona assolutamente ma è vero che volevi fare la detective sì vabbè sì ma perché io ho una passione per il genere crime mi ricordo quando ero piccola con mia mamma mi mettevo a vedere Criminal Minds oppure CSI quindi io volevo assolutamente comunque adesso sono una poliziotta per ora quindi diciamo che non non escludo il mio futuro da detective eccolo qua Nico dice come fai a non nuotare in questo momento ma allora diciamo sì i primi giorni è stato difficile più che altro passare da 12-13 km a 0 si fa sentire cioè avevo una carica addosso pazzesca poi però io diciamo che sono una molto pigra quindi mi sono abituata e quindi magari mi sveiavo alle 8 di mattina mi mettevo a studiare tutto il giorno e mi dimenticavo anche di allenarmi di far corpo libero così quindi lo diciamo la mia fortuna è che sono molto pigra sono una tipa da divano questo sempre per i pretendenti lo continuiamo a dire no per esempio un giorno mi sono messa noi abbiamo una piscina qua fuori che ovviamente è chiusa però comunque abbiamo un po' di spazio per allenarci a corpo libero e mi sono messa a fare i giri di questa piscina di corsa sono state due giorni malissimo ma che non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto cioè che un nuotatore può solamente nuotare e basta questa è proprio la dimostrazione senti un po' ma a proposito qualche delusione che hai avuto tipo Guangiu per esempio mondiali che sei arrivata per pochi centesimi fuori dal podio quelle delusioni lì come si superano da atleta cioè su cosa si lavora scusa se ti ho dato sta coltellata ora no 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 però sì cioè le delusioni capitano soprattutto se comunque l'anno scorso era tutto l'anno che andavo bene arrivare là stavo proprio male fisicamente è stata dura e ancora più dura è stato il fatto che gli altri mi dicessero che ero che era stata tutta colpa del dell'ansia no e io gli dicevo no ma guarda che non è l'ansia è che io stavo proprio male infatti poi ho fatto le analisi a settembre e erano appunto alterate così sei un virus vero? sì che non era virus che era tipo tipo una mononucleosi diciamo senti ma quindi insomma già arrivare quarta pochi centesimi dal podio è un grande successo però secondo me quella quella batosta là perché comunque a sei centesimi dal podio fa farò vedere però mi ha dato la carica per poi iniziare ad agosto cioè a fine agosto così ho iniziato per iniziare come si deve e quindi ogni tanto ci vogliono anche queste ma un momento in cui ti sei detta ma il nuoto madonna che noia voglio fare qualcos'altro voglio andare a giocare a pallavolo voglio giocare poi dimmi anche gli altri sport insomma no no allora quando avevo 13 anni mi ero in puntata che volevo smettere di nuotare e andare a far pallavolo poi invece i miei genitori che comunque sono appassionati di nuoto mi hanno convinto a continuare e infatti poi sono andata bene e quando vai bene una cosa poi non hai il motivo di lasciarla però sì sicuramente il nuoto è uno sport molto difficile perché vai avanti e indietro per una vasca per ore devi nuotare sempre perché altrimenti perdi la sensibilità quindi sicuramente ci sono dei momenti ma come li hanno tutti in cui si è un po' di sconforto oltre a chi si è innamorato di te è Anastasia Anastasia invece dice la prima cosa che farai appena sarà finita la quarantena è la tua amica Anastasia sì esco fuori con te a cena sappilo ah ecco intanto sto cambiando continuamente la finestra non so per quale motivo però adesso torno ecco adesso è paeserata con lei quindi con Anastasia si paeserata sicuramente ecco senti ma qual è il con gli altri notatori ti sei sentita in questo periodo con le altre persone perché hai un rapporto migliore in assoluto ah beh sicuramente con l'accusinato sì che accompagna a distanza da sempre sì siamo due metà che opposte però si completano no comunque sì mi sono sentita con lei anche lei in questo periodo lei non sta nuotando sì poi appunto abbiamo un gruppo su whatsapp con i ragazzi della nazionale così in cui appunto ci aggiorniamo su quello che succede appunto le situazioni sono diverse nelle diverse parti d'Italia purtroppo è così per ora ci chiedono anche ma quando vai al mare nuoti a dorso o a stile libero ma allora quando vado al mare vado entro in acqua solamente se fa proprio caldo proprio anche te sai così anche a te dà fastidio l'acqua fredda no no mi dà proprio fastidio entrare in acqua pure dopo tutto l'anno che sto in acqua c'è tipo c'è mia sorella che mi ha detto dai vieni a farti una nuotata in mare però ovviamente se fa caldo è necessario no di solito faccio rana testata tipo le vecchiette con la cuffietta a proposito sabbia o scoglio io sabbia 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 cioè spiaggia preferita tua qual è in giro per il mondo oddio non lo so allora sono stata in Sardegna un paio di volte ed è bellissima anche se lì c'è principalmente scoglio e poi sono stata anche a a Formentera e anche a Ibiza lì ci sono sì delle spiagge molto molto belle e non solo ogni tanto si vede la spiaggia e formenterebile e poi vabbè sono stata a a Miami sì e là mi piaceva il fatto che le spiagge sono veramente larghe grandi e tutto a spiaggia libera e e poi però comunque anche in Puglia sono stata nel mio viaggio di maturità con le mie amiche viaggio di maturità com'è stato il tuo viaggio di maturità mamma mia ricordi sì no sentiamo un velo pietoso però no dai dati positivi e negativi e e anche là in Puglia è veramente meraviglioso sono state a Giune sia nella parte più più bassa là non mi ricordo male però sì sì qui in Italia siamo molto fortunati prima vacanza che farai dopo quando ci potremo muovere tutti qual è la prima vacanza che farai io quest'estate vorrei puntare sul rimanere in Italia quindi qui abbiamo un ragazzo che nuota qua con noi sta in foresteria con noi che è di Siracusa mi sembra e quindi abbiamo già detto ti veniamo a trovare quest'estate Sicilia non sono mai stata in Sicilia quindi mi piacerebbe molto puoi salutare Melissa che vedo che ci viene ciao Melissa ecco abbiamo fatto felice chi ci seguiva giustamente senti quindi qual è adesso il tuo progetto per il futuro per i prossimi tre mesi cioè mancano 120 giorni a quella che al 24 luglio che ormai è una data che non ha più senso però i prossimi quattro mesi che cosa fai Margherita ma in verità dipende da da quello che ci dice la federazione perché c'è ancora l'incognita europei che in teoria le avevano spostati ad agosto però non si sa se rimarrà o meno quella data quindi in base a quello che ci dicono sì per ora appunto ci stiamo allenando poco niente quindi bisogna continuare così finché questa situazione non migliora ovviamente secondo me questa stagione sarà senza scopo quindi per ora quando ci possiamo allenare ci alleniamo giusto per mantenere un po' la forma e la sensibilità però sarà da da metà agosto che inizierà la vera stagione certo carbonara la cucini anche oltre a essere ci ho provato come la fai la carbonara allora qui ti posso dare lezioni facciamo questa cosa che serve a tutte le cento persone che ci stanno seguendo in questo momento e quante lei rivedrà andiamo allora adesso mi insultano i romani quindi allora devo prendere il guanciale poi gli tolgo la parte di grasso e la metto nella padella ma non è fondamentale questa cosa di togliere il grasso non è fondamentale proprio così poi e metto a rosolare sì poi va bene metti la pasta poi in una ciotolina a parte metti o allora c'è chi mi dice l'uovo a chi addirittura il tuorlo e basta quindi senza l'albume sì è preferibile uno a porzione con parmigiano e pecorino sì più pecorino forse più pecorino che parmigiano 60-40 sì e il no il pepepe è messo dopo poi quando scoli la pasta la metti nella padella dove c'è la pancetta il guanciale il guanciale mamma mia che cosa hai detto no no guanciale guanciale sì sì e poi ci aggiungi l'uovo con il formaggio e mescoli velocemente così con un po' di fuoco acceso sì metti il pepe Paolo del Bene Paolo del Bene Paolo del Bene giustamente interviene con la sua saggezza il grasso non togliamo non togliamo quel guanciale no nella carbonara Alex come Alex ha sempre detto che guanciale che vanno il guanciale possiamo avere una discussione su questo con Alex Di Giorgio che salutiamo però il guanciale si vuole nella carbonara assolutamente fidatevi io sono qui dal 2006 penso di aver mangiato chilometri di spaghetti e tonnellate di carbonara pensa tu prima mi dicevi che eri 60 sei passato a 68 a un certo punto io sono arrivato qui che ero 72 e adesso sono 94 quindi ci ho messo 15 anni però eh ma perché sei cresciuto di altezza diciamo così Andrea Salvia chiede che è l'atleta più bello della nazionale italiana dai no mi metti una posizione scomoda scomodissima questa vediamo beh comunque siamo fortunati perché la nostra nazionale ha tanti bei ragazzi sì quindi però secondo me il più bello è Luca Dotto sì Luca Dotto Luca Dotto ecco intanto quello del bene insiste che gli è rimasta questa cosa della carbonara e dice stai attenta che diventa frittata no 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 infatti bisogna stare attenti a non cucinare troppo l'uovo infatti io di solito lo metto crudo perché ho paura di cucinarlo troppo però viene la filetta uguale senti l'ultima cosa che ti chiedo perché veramente sei stata gentilissima a tenerci compagnia il pubblico ci ha apprezzato tantissimo tanti dicevano il tuo sorriso dovremmo averlo tutti in questo momento tanto Elisabetta diceva altri neri comunque ecco e Luca Dotto è entrato in live e c'è su una cavanza senti ma il tempo no che per te è sempre stato un nemico ma anche amico per certi versi il tempo da battere il tempo da sottrarre sempre questo tempo così dilatato oggi che cos'è per te ma in verità è una fortuna diciamo perché riesco a concentrarmi su sullo studio che avevo un po' messo da parte perché appunto questa era la stagione olimpica volevo volevo concentrarmi di più sul nuoto e sono contenta di essere riuscita a recuperare tutto quello che avevo perso appunto nello studio e soprattutto a stare tranquilla perché comunque anche nella vita di tutti i giorni non c'è solamente nuoto studio ma anche tutta una serie di impegni di commissioni che devi fare che magari ti mettono un po' in ansia e invece così sei sì non c'hai impegni né niente c'è solamente stai tranquilla puoi fare quello che vuoi quindi sicuramente c'hai i suoi lati positivi beh direi infatti anche le bollette le paghi non è come i calciatori no che hanno le persone che vanno a pagarsele no ah no no beh certo il nome non c'ho servizi nuotatori e cestisti guarda è sempre stato così non abbiamo sempre dovuto essere un po' gli sport considerati minori però in realtà non siamo considerati minori diciamolo assolutamente quindi allora intanto ti ringrazio conosci Giorgio Avola? Giorgio Avola è il migliore sai che sarà nostro ospite venerdì alle 12 il terzo appuntamento di Sport Live Talk e quindi se vorrai seguirci ci fai ci fai grande piacere tanto mezzogiorno non ti alleni cioè no 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 o fai allora solo se fai che stai facendo la carbonara ti giustifico non c'ho manco la cucina non c'è la cucina ma dotate una cucina infatti non mi ricordo sei all'Acquaniene devo fare pratica sì sì all'Acquaniene all'Acquaniene non c'è la cucina diciamolo subito anche i responsabili di l'Acquaniene ci stanno seguendo no da una parte è una fortuna perché almeno ci troviamo tutto pronto però magari dovrai iniziare a fare pratica 25 anni insomma devo iniziare ma con gli altri top outlets vi scambiate qualche informazione anche sullo studio con gli altri atleti no ma in verità no più che altro perché sono cioè che fa marketing ci sono solamente io mi sembra quindi quindi no con chi è il professore per il tuo prossimo esame con chi lo fai ti ricordo la materia era l'hai detto comunicazioni di marketing e linguaggi dei nuovi media allora per tutti quelli che seguono comunicazioni di marketing e linguaggi dei nuovi media aiutatemi per favore oh diamo diamo una mano a Margherita veramente per questo esame no dai per ora sono organizzata mi sono già stampata tutte quante le robe da studiare mi sto iniziando a fare la manuense gli evidenziatori ci sono? occhio perché gli evidenziatori sono chiusi no 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 infatti vabbè magari su Amazon riesco a trovare qualcosa va bene Margherita grazie di tutto diamo un bacio grazie a voi ciao grazie ciao ciao bene puoi chiudere Margherita eccola qua abbiamo salutato Margherita Pansiera il suo sorriso meraviglioso che ci ha tenuto compagnia per 50 minuti spero che vi siate divertiti tanto siamo tutti chiusi in casa è bello vedere anche una persona che ieri ha avuto una delusione molto grande perché ha saltato Tokyo almeno per quest'anno ma non per l'anno dopo l'anno dopo lei ci sarà continuerà a studiare voi invece continuate a seguirci il Luis Sport Live Talk a mezzogiorno venerdì con Giorgio Avola un grande schermidore con cui parleremo di tutto chiaramente un'Olimpiade l'ha già vinta ha già vinto una medaglia d'oro vediamo come si pone questa volta ciao ragazzi grazie per averci seguito a presto grazie a tutti grazie a tutti